Di cosa era fatta una gabbia per uccelli 120 anni fa? Prima di tutto era fatta di precisione, di conoscenza e di amore per le cose ben fatte. È con queste materie prime che Paolo Ballarini, nel 1889, apre il suo laboratorio artigiano di utensili in metallo. Inizia così un'importante tradizione familiare e imprenditoriale. Giunta alla quarta generazione di imprenditori, la Ballarini è oggi un'azienda presente in tutti i paesi del mondo. Fondata su valori in costante crescita verso il domani. Un marchio leader nella fascia alta degli strumenti di cottura antiaderenti. Unica azienda europea del settore a disporre di un reparto di laminazione dell'alluminio al suo interno. Macchine a controllo numerico per le lavorazioni più complesse. Vengono impiegati tutti i più avanzati sistemi di applicazione del rivestimento. In particolare, quelli a più alto contenuto tecnologico. Fra questi, il titanio. Il controllo qualità, iniziato con le materie prime in entrata, è attivo durante tutte le fasi del processo produttivo. Particolare cura è dedicata alle finiture del fondo, esterno e interno, molte delle quali brevettate. Il ciclo produttivo si svolge tutto all'interno dell'azienda. Una scelta per controllare e garantire la qualità assoluta del prodotto. Parallelamente ai controlli di qualità sulla produzione, un reparto di ricerca e sviluppo lavora all'innovazione su prodotti, materiali e applicazioni. Certificata da anni, la Ballarini ha conseguito la certificazione ISO 9001-2000, relativa sia al controllo qualità, sia alla progettazione del prodotto. La tensione verso il continuo miglioramento, ha permesso di certificare anche il suo sistema di gestione ambientale. Gli strumenti di cottura Ballarini, forti nel tempo, delicati con i cibi, nati dall'amore per le cose ben fatte. L'approccio al mercato globale dell'azienda è guidato da un management esperto con una solida cultura di marketing. La strategia differenziata permette alla Ballarini di presidiare ogni segmento di mercato. Dal mass market al professional, al canale promozionale. L'azienda può personalizzare al massimo i prodotti su commessa. Le pentole Ballarini arrivano sul mercato supportate dai migliori strumenti di informazione, comunicazione e vendita. Corner ed espositori valorizzano sia i prodotti che il rivenditore. La Ballarini interpreta i nuovi stili di vita salutisti e l'evoluzione multietnica delle culture alimentari. La Ballarini opera da 50 anni in tutto il mondo, specie nei paesi industrializzati, dove gli standard qualitativi sono alti. Dialoga in partnership con importanti multinazionali, come la Dupont. Moderni magazzini possono supportare ordini di qualunque entità. La puntualità nei tempi di consegna, la precisione nell'esecuzione degli ordini, la reattività alle richieste più urgenti, sono una garanzia. Le culture cambiano, i prodotti evolvono, la tecnologia si perfeziona. Precisione, conoscenza e passione sono e saranno ancora i valori della Ballarini per le nuove sfide del mondo globale.